Sì, è un buon momento per le basi della gestione del Cabaret Club Ok, come lo tsar del club, appunto tu hai bisogno di operare per guadagnare soldi e far crescere la clientela e infine spazzar via la concorrenza, insomma. L'obiettivo finale è quello di stabilire, far sì che il Sunshine sia praticamente il top club di Sottenborough, che è il quartiere. Ok, possiamo anche gestire le ragazze. Ok, mentre la popolarità del Sunshine cresce, ovviamente cresce anche la rivalità con gli altri club e quindi potrebbe esserci delle situazioni drammatiche. Ah, tra l'altro, mandar via, mandar fuori dagli affari, insomma, i rivali, potrebbe... Cioè, praticamente sblocca anche delle tecniche di combattimento di Majima, in modo che lui possa iniziare ancora più forte. Quindi, praticamente vai in combattimento e aggredisci, e sia aggressivo al meglio, insomma, di quanto puoi. E, appunto, gestendo la popolarità del Sunshine, può essere trasformato praticamente in una sorgente di profitti esagerati. E tutto quello che noi compriamo, cioè tutto quello che noi ovviamente riceviamo, lo possiamo prendere e spendere come vogliamo, esattamente come si faceva con Kiryu, nel caso del Dilan, nel caso dell'immobiliare. Appunto, fai crescere il club, distruggi la competizione e diventa un vero cabaret club zar. E diventi vergognosamente ricco nel processo. Comunque, ho detto, riguardo le basi... Mi dice se ho bisogno ancora di rispondere alla rispiegazione... No. No, ok, ho capito, grazie. Ok, in questo caso, il prossimo passo, insomma, è quello di aprire il locale. Ah, tra l'altro, questo prep. Ok, questo è uno di quei casi, praticamente, che è la migliore via, la via più veloce per impararlo e semplicemente farlo. Ok. Noi ci dà dei suggerimenti, in caso, vediamo. Ok. Ci sono tre opzioni nel menu. Preparate ad aprire. Quindi, seleziona lo staff. Cambia le loro apparenze, eccetera. Oppure, apri per il... Quindi, apri, insomma, per gli affari. E le battaglie con i rivali. Poi, abbiamo le statistiche delle hostess, che sono delle ragazze. Ogni ragazza ha un differente set di statistiche. Hanno delle abilità. Quindi hanno... Ci sono delle varie statistiche che mostrano abilità per intrattenere i clienti. E... Come... Sexy, beauty, cute, funny. Ok. Quindi anche come... Esattamente. Quindi le abilità sono sopra, le apparenze sono sotto. Se non erro la... Ah, ciao Mattia. Se non erro, loro hanno deciso di usare questa storia qua con i simboli. Ma io ho guardato un attimino... Brevissimamente una guida, quella invece all'immobiliare. Eccola qua. Praticamente, col cerchio vuol dire che è buono in questa cosa. Con la X, vuol dire che è terribile in questa cosa. Quindi non è sexy, per esempio. Se guardiamo col grafico lì, non è sexy, però è carina. Il triangolo vuol dire che è ok. Quindi è abbastanza divertente. Ed abbastanza bella, insomma. Non è... Semplicemente non è... Non è attraente dal punto di vista sessuale. Insomma, non è in grado di ammaliare i clienti. E poi c'è addirittura il doppio cerchio. Il doppio cerchio vuol dire che è eccellente in quella cosa. Quindi... Buongiorno a te, tra l'altro Mattia... È dormito stanotte. Ok. Io dico che semplicemente si mettevano l'A, B, C, S, classico in votazione all'americana. Era un po' più chiaro dei triangoli, dei simboli della Playstation. Comunque, vabbè, migliore sono i valori. Ovviamente è più facile che la hostess assicurare che i suoi, insomma, gli ospiti abbiano un buon tempo e spendano un sacco di denaro al club. Tra l'altro queste abilità, queste statistiche, insomma, salgono al salire del livello della ragazza. Quindi probabilmente... Ok, infatti c'è scritto. Come in ogni lavoro, praticamente, lei guadagna esperienza e quindi migliore, insomma. Poi abbiamo uno special training, quindi un allenamento speciale. Solo le hostess platino possono fare questo allenamento speciale. Durante questo... Dalle 2, 45, quasi fino a un'ora. Noi immaginavo, ti rimetti a giocare a Far Cry 5. Hai sconfitto da Fate, almeno. Comunque, durante queste speciali sessioni, Majima... Si siede con la ragazza per praticare, far pratica di conversazione. Oppure, per esempio, fanno le prove col karaoke. E se l'allenamento va bene, la hostess prende un sacco di punti esperienza. E poi, appunto, puoi tornare al lavoro. Puoi allenare una persona, una ragazza alla volta. Prima dell'apertura per gli affari. Oppure, in una data notte. Comunque, appunto, uno staff molto ben allenato, ovviamente, ti dà un vantaggio sugli rivali. E conviene, insomma, farlo per distruggere la competizione. Poi abbiamo... Ok, così ci dirai se... Ma vabbè, ormai noi abbiamo deciso di fare quell'ordine lì. Quindi, ma tanto non credo che cambi niente come difficoltà. Come dicevamo ieri. Makeover? Ok. Praticamente tu puoi liberamente cambiare l'aspetto e i vestiti e il make-up. Quindi il trucco dello staff Platino. Si apre, praticamente, scelte di nuovi stili di capelli, di vestiti e di oggetti che possono essere comprati per una prima volta. Dopodiché, cambiare tra di loro non costa nulla. Ma solo con la ragazza che ha comprato quelle cose. Quindi se vuoi passare ad un'altra ragazza, invece, devi pagare, evidentemente. Ok. E tra l'altro dice che, appunto, cambiare le apparenze dell'hostess aiuterà... Modificherà, praticamente, la sua apparenza, quindi il look. E questo potrebbe aiutare, ovviamente, con clienti di chi hanno diversi tipi di gusti. Poi... Ok, ci sono addirittura delle condizioni, quindi possono essere anche stanche. E la migliore mossa, mossa più intelligente, insomma, è dare del tempo libero, insomma, per recuperare. Ok. Mentre invece, chiaramente, le hostess che hanno molto abilità e sono ad alti livelli, chiaramente costano di più di stipendio. E questo, ovviamente, influisce sul profitto globale del club, ma è banale. Quando è finito con la preparazione, puoi aprire il club per gli affari. Devi decidere l'area dei clienti che vuoi, come obiettivo, insomma. Man mano che, praticamente, i club rivali vengono sconfitti, praticamente più aria vengono disponibili. Man mano che guadagni più fans in un'area, più clienti si fanno vedere, e aumentano anche quelli che spendono tanto, insomma. Ok. Poi. Basta. Ok. No, che carina, musica, carina. Hostess list, che sono queste, alla fine, no? No, questa. Le abbiamo già conosciute? La prima, insomma, ma la prima è unica. Livello 1. Costa 30.000 yen. Penso al mese, immagino. Ah, pure di HP. 30, 30, 30. Ok, carina. Effettivamente carina, non è sexy, come abbiamo già visto. Divertente. È la star del club. Ok, è come un diamante, praticamente, grezzo, che potrebbe brillare. Club status, cosa ci dice? Moon. Club moon, club Venus. Questi sono i concorrenti. Club Mercury. Club Jupiter. Sono... E hanno delle zone molto grandi, questa. Sicuramente più piccola. Potenzial. I partner. Questi sono i ristoranti, eccetera, eccetera. Poi, special training, ovviamente niente. No, però lei è platino. No, possiamo già... Ok, fanno l'allenamento e la conversazione. Yes. Grazie per aiutarmi con questo. Che succede? Sei nervosa o qualcosa? No? No, non direi che sono nervosa, ma ho come le farfalle, insomma, nello stomaco, che è agitata, praticamente. Ok. Direi che questo è abbastanza incoraggiante, è tutto ok, quindi fai finta, insomma, che io sono un cliente, va bene? Sì. Ciao cliente, sono Yuki. Sto guardando per avere una conversazione divertente con te. Ciao cliente. Sei sicura di questo? Ok, iniziamo con un facile argomento. Dimmi alcuni dei tuoi hobby. E così devo semplicemente parlare di questo, vero? Mamma mia, sei incerta. Certo. Pensa a questo, io tra l'altro comunque non conosco molto di te, no? Quindi usiamo questa pratica per essere più affiatati, ok? Dunque, gli hobby. Vediamo. Hobby, hobby. Ah. Qualcosa? Sì. Io non ho nessun hobby. Ehi, se vuoi essere un hostess, quel tipo di parlare così, insomma, non va bene qui. Perché semplicemente hai praticamente raso al suolo tutta la conversazione, praticamente. E lei, raggelata. Ma davvero non ho nessun hobby? O perlomeno, dubito che conta come un hobby, ma... Come un hobby, ma io ogni giorno praticamente scrivo nel mio diario. Un diario, eh? Ok, è un buon inizio. E che cos'è che scrivi, praticamente? Ah, solo cose noiose, tipo cosa è successo oggi, cosa devo fare per cena, oppure come cresce la pianta di bonsai, questo genere di cose. Ok, vogliamo chiedersi i bonsai. Beh, diciamo i bravi. Eh, aspetta, aspetta. Fermati un attimo. Bonsai? Eh? Eh? Non pensi che curare i bonsai possa contare come un hobby? Immagino che scocci e scommetto che praticamente la clientela più vecchia potrebbe essere... Potrebbe amare, insomma, di sentire qualche chiacchiera su questo argomento. Ah, io vedo, hai ragione, potrebbe funzionare. Magì, ma sei più, insomma, intelligente di quello che so che prima. Stai dicendo che sembro un idiota? Comunque, Yuki, comunque, perché non hai nominato o menzionato questo hobby dei bonsai innanzitutto? Ancora prima, insomma. Ho solo otto anni di esperienza con i bonsai. E nel mondo dei bonsai questo mi fa non essere nessuno. Probabilmente un maggiore hobbyista, praticamente, con una maggiore esperienza si riderebbe di me. Ok. Beh, immagino... Penso che sia straordinario. E' straordinario che riderebbero di lei. Questa è stramuta. Non si può usare un hostess che non ha niente da dire. Poi si è carina quanto vuoi, ma... Vediamo. Clam. Credo che comunque sostanzialmente vuol dire... Vabbè, è un modo di dire, ma sostanzialmente vuol dire che tu praticamente ti azzettisci anche quando l'ospite smette di parlare, no? Sì, immagino di sì. Mi sento praticamente maleducata se inizio io a parlare tutto all'improvviso. Maleducata? No, quella non è l'idea giusta. Tutti i clienti qua, che vengono qua, vengono qui insomma per parlare con le ragazze, Yuki. Quindi tu devi semplicemente guidarle su qualche argomento. Ma io... Non ho nessun indizio... Su cosa parlare con loro, insomma. Cosa devo... Cosa devo fare praticamente se diventano silenziosi? Un complimento? Perché il sorriso... Vabbè, il sorriso potrebbe mettere al loro agio, il complimento... Mi sembra una cosa un po' difficile. Dobbiamo dire questo, il complimento, però... Surgio! Ok, però provo a tentare un complimento. Perché non c'è nessun uomo al mondo che non... Che praticamente viene a zitti... Cioè, praticamente si chiude in se stesso per un complimento. Complimento? Ti può dire che... Qualcosa di carino sulla sua faccia o qualcosa del genere? Sì. La sua faccia, la sua voce. Magari la sua personalità. Ok, oppure dire qualcosa sui loro vestiti, le scarpe... Oppure perfino... L'orologio. Wow! E sta salendo la barra. Wow! Ora, Magima... Penso che sia la prima volta che mi sento praticamente di guardarti davvero. Immagino che tu non indossi quella strana pezza per gli occhi per nulla. Aspetta, aspetta, questa è la tua idea di complimento. Complimento. Cosa? Ho cercato davvero di fare un complimento a te. Mi dispiace tanto. Oh, poi... Oh, ragazzi... La strada per successo sembra molto lunga e... E praticamente saltellante, insomma, per te. Yuki. Vediamo. 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 Cosa potrebbe essere... Cos'altro potrebbe essere un buon inizio per una conversazione. Hai per caso qualche talento? No, lasciamo stare. Di che cosa stai parlando? Un attimo. Ok, sì. Anche io ho qualcosa a cui sono capace. Di cui sono capace. No? Ah, davvero? Non scherzi. Ok, che cos'è? Ok, le vecchie persone tendono a... Diciamo così... Tendo a piacere le vecchie persone. Lui domanda... È un talento? Older Jens? Oppure? E lui dice... Praticamente sembri una nipotina. Non offendiamola. Sembra? Sembra una tipatina. Dai, proviamo questa qua. Ok. Immagino che praticamente per loro, insomma, tu possa sembrare un po' con una specie di nipote. Davvero? Ok, non sono sicura su questa cosa della nipotina, ma sono sempre stata la favorita del nonno. Eh, ha senso. Ha senso. Ok. Ok, comunque questa cosa può essere utile per la tua linea, insomma, di affari e potrei lasciarti a te tutti i... i nonni che praticamente passano attraverso la porta. Ah, grazie. Ok, ti ringrazio, ma sarebbe carino ogni tanto fare pausa... da tutti i nonni che entrano, a meno ogni tanto. Poi. Ok, tutto ok. Cambiamo Mars adesso. Perché non mi dici, invece, le tue debolezze? Ci è qualcosa che ti viene in mente? Debolezze? Ne abbiamo... Ne ho tante di queste. Com'è che questa cosa non mi sorprende, dice Majima? Eh, non essere rude. No, no, sto solo scherzando con te. Ok, se tu ne hai tante, perché non me ne dici a meno una? Qualsiasi cosa può andar bene. Fai a pensare, ad essere onesto con te. Immagino che non sono molto buona a parlare con gli uomini. Dai. Eh? Ok, guarda questa stranezza che l'abbiamo capita anche da soli. Comunque, vabbè. Eh, se non sei tanto capace di parlare con gli uomini, perché diavolo sei venuto a lavorare in un posto come questo? Non siamo rudi, eh? Perché, perché... Ah, lo so. E perché... Cioè, lo so ed è perché non sono buona a far questo. Praticamente, ho pensato che venire qua mi aiutasse, insomma, lavorando qua. Tu lo sai, sono anch'io un uomo. Tu hai realizzato che sono un uomo anch'io? Eh, questo è vero, ma... Majima, io posso parlare con te tranquillamente, insomma. E perché? Adesso vediamo... Ah, ah. E perché? Perché sono supportativo, diciamo. E un ragazzo, insomma... Ragionevole. Ah, ah, ah. Hai ripeto poco la barra, però. No, non penso che sia così. Io sono... Probabilmente sono ok con te, perché non sembri un uomo. Ehi, che diavolo vuol dire questo? Scusami. Ah, non abbiamo riempito la barra, però. Va bene, è tutto ok. Possiamo... Fermarci qui? Vi ringrazio per la lezione. Ok, insomma. Buon lavoro. Ok, e questa è stata una buona lezione, insomma. Ben fatto, Yuki. Questa è andata meglio di quanto io pensavo. Potresti, insomma, farsela. Ti ringrazio, sono così... Sfatta. Ok, sono un po' più confidente. Farò il mio lavoro molto più duramente. Oh, due livelli abbiamo guadagnato. È salito anche il... Un po' tutto, praticamente. Niente da spiegare. Ah, come che funziona? Ah, così. Rank B. Quindi abbiamo queste due. Questa non è né bella né niente. Praticamente. Ok, ok, un po' in tutto. Sostanzialmente. Questa è buona, è sexy. Pur non essendo né carina né bella. Ed è anche appunto... È anche divertente. Talk, tra l'altro, è bassissimo. La capacità... L'abilità di parlare è veramente bassa. Questa è a 30. E la nostra Platino. 34. 34. Ok. Il trucco... Passiamo solo con lei. Così sembra più... Dembola è? Ok. ci sono anche i set coordinati non ne abbiamo quindi probabilmente vediamo vestiti c'è qualcosa scende il sexy cioè sale il sexy scende il carino idem idem e c'è il costo in corone questo blu no lasciamo stare questo guarda rimo c'è tutta questa gestione che mi sembra di fare del barbie gira la moda gastronomia anche la gestione praticamente delle sono appunto solo tre ragazze per cui ma non c'è no per ora è solo questa ok benvenuti benvenuti signora è carino però qui probabilmente si vede come sono vestite tutte le ragazze che avremo ok questo invece dello schermo della gestione delle operazioni il tuo obiettivo è di fare più denaro possibile prima che la shift penso da una notte finisca credo cioè che comunque il giorno finisca ok quando un cliente entra e prende una sedia devi assegnare una hostess differenti clienti hanno le loro preferenze per quanto riguarda quando guardano le abilità oppure come l'aspetto delle ragazze quindi c'è una ragazza che praticamente si accordi con lui sostanzialmente e questo sarà molto felice di spendere una fortuna nel club ovviamente servire i clienti gradualmente affaticare le hostess e abbassa questo il loro livello di ospitalità senza ah ok ecco perché ci sono i punti ferita ok non so se devi fermarti prima che come sia a zero qua c'è il tempo rimasto è proprio che non spessi minigioco sembra ok l'indicatore del denaro in basso a destra ci mostra praticamente quanto gli ospiti hanno speso nel club e quando è al massimo premendo R1 parte il party ok il party il tempo del party insomma mette i clienti in uno stato di fervore e questi perdono le loro onnibizioni e quindi anche spendono di più sostanzialmente e oltretutto un altro beneficio del party è che praticamente le hostess recuperano i loro diciamo così punti ferita ma non sono punti ferita la loro vitalità insomma alla fine ok ok far salire ancora di più l'indicatore del denaro fa diventare il momento del party ancora più efficiente a un certo punto diventerà l'happy hour senza sconti praticamente un momento senza sconti poi c'è il cosa per servire i clienti ah quindi siamo noi che praticamente ci avviciniamo a un tavolo se sembra che ci sono qualche problemi per esempio per fare un controllo oppure se la hostess proprio è lei che ci chiama per un aiuto ok avrei diverse opzioni e prendere la giusta decisione praticamente o farà salire la soddisfazione del cliente oppure pacificherà eventuali problemi se aspetti troppo lungo ovviamente hai perso la chance per cui bisogna stare attenti a questa cosa poi richieste ok se un cliente è felice con la sua hostess quando è il tempo che noi andiamo lì a guardare potresti suggerire un'estensione ok il cliente praticamente si ferma di più ed è in questo stato di fervore che spende tanto denaro come se non ci fosse un domani un domani ok far sì che praticamente i clienti mega ricchi concordino con questa estensione è una prova è una prova assoluta insomma che le vendite saliranno e praticamente le ragazze stanno stanno facendo un sacco di denaro ok mentre il club si farà un nome ci saranno alcuni clienti che verranno proprio con la con la richiesta di le hostess platino diciamo così quindi far scambiare le ragazze in giro per fare per soddisfare queste richieste quando arrivano ognuno ha la sua favorita e poi abbiamo lo screen finale dei risultati dove ci mostra i profitti ci mostrano i miglioramenti i miglioramenti dello staff ok e anche appunto le ragazze e poi il tuo club praticamente guadagnerà maggiori fans in relazione praticamente le sue performance per incrementare la sua popolarità a una certa aria accertati di di renderla come obiettivo e quando apri per gli affari e cerca di mandare praticamente a casa i clienti felici man mano che la tua popularità incrementa così aumenta anche la qualità dei clienti di base e quindi i tuoi profitti ok per progredire in questa storia in questa linea di storia praticamente delle 5 stelle tu hai bisogno praticamente di raggiungere un particolare numero di fan in ciascun'area ok quindi me lo fa fare adesso questa cosa quando prefera sex andiamo su questa arriva un altro un uomo povero anche questo è povero e non sembra felice quanto pare vuole il party vuole sessioni brevi praticamente ah se n'è già andato questo vuole parlare proviamo a fare questo scambio un po' già meglio ah beh questo è un mini gioco ci sono problemi nel tavolo 1 allora questa cosa che vuole andiamoci qua come si faceva ho letto triangolo ok andiamo in un regalo ok il cliente l'ha lasciato molto soddisfatto questi sono tutti ok e l'hp is very low wow l'hp 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 vediamo cosa vuole questo ladies glass va bene una cosa che devo guardare insomma come funziona qua cosa sta succedendo invece questo pampered un attimo mi metto in pausa perché pampered è proprio non so cos'è coccolate non è semplice questa cosa qua c'è problema di qualche tipo non posso far niente ma sto salendo vabbè 28 secondi ho fatto pena ma è la prima volta che lo faccio questa cosa tavolo numero 3 ok non c'è più nessun altro cliente il mhp sta scendendo questa ormai è andata non gli piace non gli piace non gli piace ma è andata il tizio è il tavolo 4 ah qua vabbè mi sono perso via qua ci vuole 170.000 ieri vabbè comunque come al solito queste cose qua poi me le studierò io per i fatti miei li ringraziamo per essere venuti non tanto male insomma siamo praticamente a corto ovviamente di ospiti anche di ragazze però non c'è un'altra via insomma praticamente a parte questa qua del del vendare ogni giorno praticamente da ok se vuoi praticamente assumere della ragazza immagino che devi praticamente cercare cercarle in città e che cercarle in città è praticamente la via più veloce infatti ok adesso abbiamo questo perché me lo domandavo anche prima anche se non l'ho espresso quindi assumere nuove hostess tu puoi praticamente aggiungere delle ragazze al club praticamente appunto andando in giro per Sottembori oppure anche scambiando i completion point al al tempio ok ovviamente è difficile avere la meglio sulla competizione se non hai delle ragazze quindi cerca di aumentare praticamente il loro numero prima possibile ok ovviamente poi il passaparola di ogni di ogni giorno insomma di affare di ogni giorno è un'altra maniera per portare nuovi clienti ma ho sentito dire che praticamente firmare accordi con gli affari insomma i locali insomma di affari è efficiente praticamente probabilmente dobbiamo spingere gli altri negozi a farci pubblicità mi sembra abbastanza ragionevole appunto quindi fare affare con gli altri quindi eccole qua alcuni dei negozi di Sottenborg che è il quartiere firmano questa partnership insomma con te per un prezzo ovviamente ok questi partner praticamente ti mandano la loro clientela e fanno crescere la l'ifan alla svelta più fans ci sono maggiori clienti ci sono e quindi questo chiaramente finisce in maggiori profitti si ha senso quindi andare in giro per la ragazza e fare appunto partnership con i loro con i negozi ok sembrerà che praticamente sarò molto impegnato anche fuori dal club quindi assolutamente l'intera città è il tuo campo di battaglia c'è molto da fare e buona fortuna signore ok ci provarò a fare nel meglio questo posto quindi ha davvero bisogno di più ragazze è difficile insomma aprire le porte per come sta adesso ok è venuto in mente che in realtà ci sono delle ragazze insomma al grand che ha preso dall'Od6 che potrebbe praticamente trasferire qua in sostanza ok ci teniamo un Ozomi chiaramente perché è quella migliore ma probabilmente le altre le portiamo direttamente qua quindi abbiamo assunto Ume Kirara basta sono meravigliato sono sorpreso Majima difficile credere che sia la tua prima volta insomma eccoli qua i bulli di che bulli state parlando esattamente sono qui per la tua risposta come promesso bene sei pronto per venderci insomma te l'ho detto prima la risposta è no ok speravo di fare questo in modo amichevole ma niente ok questi questi ci menano ma ci siamo noi stavolta chi siete voi insegnate a questo pazzo testardo la realtà della situazione ok quindi alla fine hai sei ricorso alla violenza no sei un codardo il bastone e le pietre non il bastone e la carota vediamo cosa arriva prima se non ci dai quello che vuoi insomma muori in caso in comunque caso non ho tempo di aspettare fatelo questo adesso dice aspettate un secondo e tu chi saresti il mio nome è Majima e Yoda appunto mi ha chiesto di prendere il controllo del locale e insomma praticamente finché noi ci saremo il comando nessuno deve creare dei problemi in questo negozio ah un nuovo manager ok questo dice che è meglio scegliere appunto di fare come dice lui alla fine ma tu sei il tipo che sai come praticamente combattere quindi tu sei sia il boss che anche il butta fuori scelta saggia per quello che sembra un idiota sono veramente impressionato davvero cosa vuoi che facciamo bisogna insomma facciamo fuori anche questo tizio no ok no sono curioso di vedere come questo pensa di praticamente uscirsene da questo buco praticamente questa situazione possiamo praticamente schiacciare quando vogliamo ok sono curioso insomma mi intratterrò nel guardare come gestirai la faccenda insomma dopo che ti sei fatto nemico quelli delle 5 stelle ok sei molto fortunato oggi Yoda e Majima bene perché non provi il tuo meglio insomma se sono se mi annoierò verrò qui e praticamente e ci schiaccerà come le mosche che noi siamo ok va bene fallo porcellino guarda divertiti insomma guardando la tua piccola casa di carte crollarti addosso ok io semplicemente ci ci avvisa di non prendere troppo la leggera questa cosa delle 5 stelle ti ringrazio Majima non preoccuparti di questo la vera battaglia sta solo iniziando abbiamo bisogno appunto di 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 far crescere il locale in un stato praticamente combattivo molto rapidamente se vogliamo averla meglio su di loro ok quando praticamente voglio di aprire il club fammelo sapere io sono sono già comunque sono già molto impegnato con il mio locale quindi non posso essere qui ogni volta comunque appena un minuto cercherò di esserci quindi quello lì è un tizio dei 5 stelle insomma questo potrebbe essere più dura di quanto non pensassi trofeo guadagnato goro majima e cosa stanno intendo interessanti una donna misteriosa adesso ma anche carina tra l'altro sto iniziando a capire perché Yamagata praticamente ci ha detto di venire a vedere i club cavari ma questo ha richiesto più tempo di quello che ho pensato insomma devo tornare al grand ok quindi dobbiamo tornare al grand adesso cos'è tarda serata sembrerebbe messa che succede qua fai davvero ok è un praticamente sta gli hai detto tu hai estorsore cosa succede qui praticamente lasciata perdere con la vostra piccola tassa sulle vendite voi volete che paghiamo ogni volta che noi compriamo qualcosa voi sanguisughe voi farete praticamente sanguinare l'intera l'intera l'intero paese finché non sarà asciutto praticamente questo uomo ben vestito dice lo capisco la vostra rabbia è giustificata ma è necessario è insomma questa cosa è necessaria per il bene di tutte le persone della nazione ah ok questo qui a quanto pare è una effettivamente gli dice insomma vai a quel paese voi state praticamente pagando ho fatto insomma l'idà del burocrati dice questa tassa è semplicemente quello che praticamente fa rimanere le persone comuni in basso praticamente perché non guadagnano mai no è vero voi avvoltoi questi ragazzi giovani stanno praticamente scaldandosi su qualcosa che riguarda le tasse e questo dice beh immagino che oggi sia il mio giorno fortunato di incappare praticamente questo figlio di puttana di borocrote che sta cercando praticamente di farci pagare le tasse e tutto solo qui praticamente nei vicoli non mi piace il tuo tono signore io rappresento la voce della popolazione in generale e sono qui per dirti che praticamente non siamo incazzati ok sì giusto perché non ti diamo un assaggio dell'opinione del pubblico e ti faremo sentire praticamente come questa oppressione ci fa sentire la prego calmatevi la violenza non è la risposta non fatelo ok questa cosa sta per scoppiare andiamo andiamo a vedere vi prego calmatevi silenzio rotto in culo ehi ragazzi praticamente calmatevi insomma non c'è ragione di di aggredire questo tizio no abbiate un po' di compassione cosa tu non sai chi è questo scarafaggio no è un tizio appunto che è venuto qua per farci pagare le tasse cosa tu non guardi le notizie è una tassa che loro hanno iniziato a richiedere per il prossimo anno ogni 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 volta che tu compri qualcosa e loro praticamente ti faranno ti ricaricaranno insomma un 3% di tassa in più si chiama iva 3% di iva ti lamenti non abbiamo quante ormai tra poco non venderemo più un cazzo perché l'iva più alzi l'iva più abbassi e deprimi l'economia perché chiaramente la gente è meno invogliata a spendere perché aumenta il costo delle cose di tutte le cose e dice non è ridicolo cosa questo è una stronzata insomma e questo tizio è il colpevole ma questo è praticamente è una ladrata insomma di alto livello mi stavo perdendo per un secondo ascoltate ragazzi copisco completamente quello di cui insomma vi siete arrabbiati ma picchiare questo tizio non servirà assolutamente a niente la tassa sulle vendite non se ne andrà ma chi ce ne che me ne frega insomma il governo ha bisogno di capire cosa ne pensa la gente di questa nuova regola insomma azione diretta sì potere potere alle persone wow sembra l'Italia delle regioni nostre uguale identica se tu non sei parte della soluzione tu sei parte del problema quindi praticamente se tu vuoi stare a difendere questo moscerino noi ti mostreremo la potenza delle masse anche a te ok va bene vediamo quanto quanto come farete con me praticamente preparatevi per la rivoluzione rotti in culo ok ci hanno fatto veramente male mi dispiace ero fuori fuori forma non succederà ancora la ringrazio per essere intervenuto insomma queste persone erano in gerca di sangue sono taglio mazzucizzato taglio come nel sole ma si vede ok potrei comprarti un un drink insomma cosa da bere come ringraziamento è bel nome io sono Majima e non ho bisogno di nessun ringraziamento no insisto assolutamente non è che sei un tizio di qualche gruppo politico ok ok no non sono non ho nessuno praticamente chissà che via o potere però sono una posizione di aiutare a guidare la nazione però ok sono venuto qui sotto in Bori per una conferenza su questa politica insomma di trassazione ma non ero preparato ad affrontare il pubblico a riguardo ok quindi tu praticamente guidi un caro armato chiamato governo e se non stai attento praticamente le persone ovviamente si incazzano con te ok ma comunque tu stai cercando di rendere migliore questa nazione per tutti no e dovresti appunto essere fiero di questo tu pensi così sai se l'iva è al 3% ci sta anche bene ma chiedere più di un quarto del costo di un prodotto in tassa quando poi paghi altre tante vabbè lasciano stare io conosco persone che sono ovviamente infelici di questa tassa ma solo a un livello logico diciamo così e mentre invece quando praticamente l'ho visto a livello emozionale insomma questa cosa mi ha lasciato di stupco diciamo e se loro scoprissero che questa tassa sulla vendita è solo la punta dell'iceberg perché ci sono molte altre tasse sulla via odio pensare come la popolazione reagirebbe cosa ancora altre tasse esatto non è ancora niente di sicuro ma stiamo appunto considerando molte più vie effettive per generare un flusso di guadagni insomma infatti domani alla conferenza domani parlerò praticamente di alcune di queste proposte è così bene immagino che con tutti che fanno molti buoni soldi oggi non cioè non puoi pensare che praticamente il governo non stia aspettando di metterci una delle mani su una fetta di torta insomma è una cosa curiosa questa qua sì ma come hai visto di prima battuta insomma non abbiamo considerato l'opinione pubblica mi meraviglia insomma se potremo davvero arrivare a una politica di tassazione con cui che qualcuno insomma che la gente accetterà con cui potrà vivere buona fortuna con quello anche se noi dovessimo avere tanti soldi insomma da buttare nel camino nessuno vuole che il governo praticamente ci metta le mani sopra sì qui dove sono fermo io dove sono bloccato io non ho ancora affatto trovato la giusta bilanza sono un po' perso al momento ok non capisco insomma niente di quello che stai per fare ma comunque avrete abbiate cura della nostra nazione per noi ok aspetta ma cima puoi aiutarmi ancora una volta cosa c'è un altro insomma delinquente che ti vuole ti minazza no non è questo io voglio la tua visione su queste su questa tassazione cosa io so meno di nulla su questo su questo argomento e questo è perché è la ragione per cui tu sei perfetto o perlomeno io ho questa idea probabilmente qualcuno che è completamente ignorante sulla tassazione può offrire una prospettiva interamente differente tu pensi ti prego ma cima non è un'esagerazione il destino della nazione è sulle nostre spalle vuoi per favore darci un suggerimento su questa politica si sentiamo ok ok hai vinto parliamo un po' di tasse ti ringrazio il tuo insomma aiuto potrebbe essere incalcolabile ma questo non è il posto per questa cosa quindi possiamo andare dove è un po' più appropriato va bene fammi strada vediamo dove si porta la club cavale ok tieni sempre a mente appunto che non conosco niente di questa roba non aspettarti molto no esattamente come te ho detto chiesto insomma io so che tu puoi avere praticamente alcuni punti di vista unici non circoscritti insomma dalle convenzioni tipiche quindi tu praticamente stai cercando di sperare di trovare un oro in una miniera di rame no beh allora chiamo di essere sicuri che non sei completamente all'oscuro di questo con una domanda molto basilare va bene ok Magima tu sai perché il governo raccoglie le tasse dalle persone ok la prima risposta è per tenere la gente povera ma per i pubblici servizi in teoria vediamo è per questo giusto sì è questo esatta è così esattamente mi dispiace aver chiesto una domanda così semplice ma come hai detto te le tasse sono collezionate principalmente per provvedere ai pubblici servizi ma anche il primo punto oggi è il punto più essenziale di tutti per la politica di oggi comunque educazione appunto cure medica la polizia i vigili del fuoco e molto altro è pagato le tasse però anche qui uno dice se finora ce l'hai fatta perché devi aumentare se finora ce l'hai fatta con la tassazione che c'era perché devi prendere la tua fetta di torta come dicevamo prima comunque noi cioè insomma si paga per questi servizi che di cui ha bisogno la gente per sopravvivere sì noi abbiamo bisogno di scostruire strade ponti e tenere tutti in ordine giusto? ma c'è anche qualcosa di più? esattamente questi servono anche altri scopi che riguardano la la ricchezza in generale ma non possiamo andare in questi dettagli ora come ho detto c'è un sacco di cose che io conosco ma tu non sei curioso di sapere dove questo denaro va? è sempre buono sapere insomma di più riguardo le tassazioni ok va bene sono pronto per sentire ok torniamo al tema principale ok ma Gima se tu fossi in una posizione di raccogliere le tasse dalle persone che cosa tasseresti? direi che l'intrattenimento per adulti forse è meglio che non che non lo consigliamo facciamo il tabacco satusan che cos'è facciamo il tabacco perché non tassare il tabacco tabacco tu dici interessante ok da quando il monopolio sul tabacco sui prodotti di tabacco è finito tre anni fa quindi siamo anni 80 qua vi ricordo attualmente c'è solo una piccola tassa sul tabacco insomma si io fumo anch'io e così non ho tanta voglia nessuno di pagare una tassa su quello ma appunto suppongo che non sono cose essenziali per cui e se tu praticamente alzi insomma le tasse su quello che non è considerato essenziale tanto per iniziare insomma le persone possono capire più facilmente una tassa sul 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 fumo no ok una tassa sul tobacco si un pacchetto costa 200 yen insomma le persone potrebbero insomma lamentarsi ma potrebbero anche andare a 300 insomma ok vedo interessante mentre a 400 yen è difficile pensare che ne varrebbe la pena insomma comprarlo quindi ovviamente sono sempre lì alzi alzi e non tiri troppo la corda insomma vabbè mi dice considerando il suo sì penso anch'io insomma capisco il punto considerando che devo anche guadagnare io ok e se fosse a 500 per esempio a pacchetto probabilmente smettere di fumare insomma lo smettereste a 500 ma se noi lo come dire lo aumentiamo incrementalmente sta iniziando a mormorare tutto l'improvviso cosa pensi che ci sarebbe altro insomma da poter tassare io penso che praticamente qualcosa che è molto vicino insomma alla vita di ogni giorno avrebbe il maggior potenziale una tassa collegata alla vita di ogni giorno vabbè benzina all'aria lasciamo la perda ma in Italia ce l'abbiamo pagata anche quella cosa pensi di praticamente fare una tassa sul benzina ah una tassa sulla benzina perché no ok le persone con la macchina ovviamente insomma riescono a vivere perché non prendersi poco di denaro da loro alla fine ok il prezzo del gas dipende dal costo del petrolio per cui le persone hanno già avuto esperienza di picchi di prezzo prima loro dovrebbero essere abituati appunto a queste a questi rincari ok c'è già ovviamente una tariffa sulla benzina ma c'è sicuramente spazio insomma per far salire la tassa senza che nessuno non otti più di tanto ok cos'è tutto quel borbottare ok io penso se non pensavo che fosse una pessima idea invece dice no no io penso che una fantastica idea ok buono sapersi buono sentirsi c'è qualcos'altro c'è qualcos'altro che poi puoi dirci sulla sulla questione della tassazione qualcos'altro sulla tassazione oh si beh sto pensando riguardo riguardo quella tassa sulle vendite di cui parlavate prima si così dall'anno prossimo qui noi inizieremo a pagare il 3% di ogni cosa che compriamo vero giusto è così che funziona bene perché fermarsi il 3% perché non alzate ancora un po' eh questo può essere impossibile eh visto cosa è successo no già il 3% ha causato un sacco di casini le persone volevano praticamente strapparmi a pezzi chiedere di più probabilmente finirebbe in una rivolta no 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 non è come pensi le persone sono incazzate insomma perché gli avete dato un'altra cosa una nuova cosa su di loro sulle solo spalle insomma ma devi pensare a una partita lunga una partita lunga la femminilarità è una cosa paurosa mio amico esatto questa cosa è una cosa triste ma comunque sostanzialmente dice che siccome è una cosa nuova una nuova tassa nuova la gente si incazza e si lamenta eccetera ma una volta che questa cosa diventa parte regolare della loro vita praticamente loro poi si spostaranno su qualcos'altro su cui lamentarsi e qui insomma quando voi potete gradualmente girare i cacciaviti ma nel senso che potete iniziare ad alzare la tassa praticamente ok ogni volta che praticamente voi alzerete un pochino ci sarà un po' di mormorio ma non è esattamente ma non sarà mai come praticamente la prima volta che ti avrebbe voluto uccidere insomma la prima volta che avete introdotto la tassa no tu vuoi sapere perché perché loro si abitueranno a essere fregati mettiamola così triste ma così insomma se le se la cosa l'avranno appena l'avranno accettata e peggiorare un pochino loro semplicemente consigliano questa cosa un fatto della vita insomma darà una bollita questa cosa qua è assolutamente una tattica tristissima che veramente adoperano ti abitano man mano a un po' anche la crisi che c'è adesso è così vanno gradualmente abbassano sempre più il livello di vita e la gente sapendo che la gente accetterà sarebbe stato molto ma molto diverso se la crisi fosse stata improvvisa e forte e molto più forte adesso ci sarebbero state ribiglioni mentre invece ridurre i nostri standard di vita poco alla volta insomma aiutano a accettare sanno benissimo che ci aiutano a accettare quello che sta succedendo comunque è un discorso politico che non voglio fare comunque mi sorprende che qua in Yakuza stiano parlando di questa cosa con questa franchezza quindi non lo dicesse quindi il vostro scopo insomma è tirare dentro soldi doveste avere appunto un piano per aumentare insomma la tassa sulle vendite ma Gima sto avendo la pelle d'oca e io penso che tu sei terrificante tu sei di questa terra? tu vuoi davvero saperlo? no no davvero ok se questa tassa sulle vendite deve salire quanto pensi che debba che possa salire insomma quanto possa salire? se parte al 3% fammi pensare potresti provare anche l'8% mettiamo l'8% ok è un buon numero non è né troppo lontano né troppo vicino né troppo lontano dalla doppia cifra del 10% insomma il discorso è 9,99 ok immagino che ci sarà del dissenso tra le persone ma penso che potrà essere assolutamente fattibile sì ma l'8% praticamente per esempio su un 100 yen diventano un 108 e questo sicuramente colpisce il mio entusiasmo per prendere un così caro prodotto ok in realtà volevo dire 5 però ho detto sinceramente 8 come target no? quindi comunque dice probabilmente se invece se iniziamo dal 3% e andiamo al 5% aspettando ancora un po' poi potremo raggiungere l'8% eventualmente basta con queste chiacchiere insomma questo mormorio oh scusa mi sono perso nei miei pensieri ok sono così felice che tu hai speso del tempo per parlare con me che abbiamo speso ci siamo in pesi del tempo insomma per parlarci tu sei ricco di idee mi fa piacere insomma di essere stato utile utile non neanche inizia a descrivere la cosa ti prego prendi questo come ringraziamento ok abbiamo preso prima la spirit stone una roba quasi una cosa eccellente ok meglio se vado devo tornare all'hotel per presentare insomma la conferenza domani ok fai la tua nazione felice hai sentito sai tecnicamente noi abbiamo avuto le tasse in Italia basse fino agli anni 70 in particolare ma anche agli anni 80 sì quindi questo ha favorito effettivamente una crescita anche la crescita economica industriale oggi invece è tutto come una specie di pesi che ci tirano ci trascinano verso il fondo più o meno lentamente dicevo quindi idealmente se la tassazione fosse davvero solo per il benessere della nazione dice qua nella logica di quegli anni era era giusto quindi si prendono un po' di soldi della gente costruiscono pure nuove infrastrutture e tutto ciò ricade benevolmente su tutta la popolazione no? quindi nuovi pensiamo sulle cose per il trasporto eccetera quindi c'è più possibilità di far crescere tutti in quel modo lì semplicemente appunto prendendosi una giusta tassazione discorsi diversi come siamo messi oggi tra l'altro sarei molto curioso di vedere quanto è l'iva anzi possiamo tanto che è un discorso che stiamo facendo vediamo quanto è arrivata poi sembra il 10% quindi era l'8% questo è Abe perché non aumenta le tasse ok quindi non so se sono al 10% ma comunque notizia del 2016 l'aumento lì secondo me sono all'8% ed è per quello che ha menzionato l'8% 8% contro i nostri cos'è? 25 tra poco va bene abbiamo fatto un piccolo viaggio in questa questa cosa politica sociale mettiamo così degli anni ma non avrei mai pensato di essere un in una posizione di dare dei consigli a qualcuno che fa andare la nostra nazione ok taglio insomma taglio sembra appunto in grado di di gestire questa cosa buon per lui wait aspetta alzare le tasse l'ho fatto davvero se le tasse saliranno è tutto mio errore no 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 dice alla fine non dipende da lui su per questo che dice no però in effetti abbiamo abbiamo un punto guadagnato un punto di completamento che potremmo appunto spendere al al tempio qua che cosa che c'è ma perché non ce lo indica nella mappa qui era il qua è il tizio che ci mena il tempio era qua eccolo qua tornando indietro andiamo a farci un giro qua ci sono delle ragazze non so come funzioni non sembra che devo parlarci no qui si se vuoi un po' di botte e tu oh ma che cavolo ma pensate voglio solo andare al tempio e se è fuori ok vediamo purtroppo dicevo il gioco in realtà ha questi elementi RPG per cui bisogna fare tanto è lunghissimo evidentemente ma non abbiamo tutto questo tempo se non voglio fare Gakusa 6 a settembre che tra l'altro c'è da dire che apro un'altra parentesi c'è da dire che purtroppo Kiwami 2 l'hanno annunciato ma è fine agosto 28 agosto mi si pare io è troppo in là io da una parte ho ragionato da una parte ho ragionato dicendo ormai Yakuza 6 non riesco con la mia idea di farli tutti prima gli altri non riesco assolutamente a streamarlo all'uscita che ormai mancano una ventina di giorni quindi da una parte ho detto se non riesco a farlo all'uscita e molto probabilmente ci vorrà anche un mese perché non rimandare addirittura tutto a fine anno cioè nel senso finisco questo faccio Kiwami sospendiamo tutto lasciamo uscire Kiwami 2 i primi di settembre lo streammo e poi farò il 3, 4, 5 e 6 però veramente vuol dire rimandare di parecchi mesi insomma 6 mesi quello che è il 6 e io quindi non potrò sfruttare di nuovo l'uscita insomma in tempo non lo so vedremo vedremo quanto tempo in quanto tempo riuscirò a finire questo e Kiwami vedrò che da quanto è uscito insomma Yakuza 6 e ragionerò di conseguenza comunque questo è il business vediamo qua iniziamo a sbloccare questo però per le bar questo è sempre invece del lui che considera battaglia ma c'è anche tutto il discorso del negozio il dash devo imparare a farlo per ora questo è tutta roba così in realtà ti costa anche stanchezza quindi questo qua goditi il cibo anche quando praticamente i punti vita sono al massimo che vuol dire che cosa succede quindi questo qua è tutto sul dash oppure su lanciare il denaro in giro ma iniziamo a mettere a 13 no no come 13 ecco 3 punti perché non vorrei fare ci sospendiamo questo ehi si ok tu sei col club sunshine il mio nome è Akina posso lavorare per il tuo club ok tu sembra che sei molto popolare il nostro club va bene sono d'accordo insomma ti faccio assumiamo abbiamo assunto gold hostess questa sembra che abbiamo praticamente un vero vincitore qua ah ma aspetta un attimo adesso forse posso farlo dai esatto ok 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 abbiamo sono le chiamate praticamente quindi adesso si doveva presentare un'altra eccola qua noi siamo col club ma non ha la stessa faccia il nome è Shio ok questo è silver però ok funziona così in pratica la cintizia a menare ah qui c'è qualcosa questa è la carta B abbiamo preso anche un altro punto perché abbiamo collezionato 5 carte ok dovevamo tornare al ok appunto al grande quindi in realtà sto guardando che c'è tutto il riassunto siamo al capitolo 7 appunto difficoltà normale va bene perché sto giocando così 25 ore già di gioco e lì c'è un riassunto di quello che dobbiamo fare quindi ok ok Questa qua mi è piaciuta tanto, che si è fermata lì sul posto e ha dato lì cos'è che c'è qua, ah il tizio, ah ok ok ok, andiamo un attimo, dobbiamo andargli diciamo quello della vita, scusa posso avere questo? Sì, è tutto tuo, ringrazio, il sorrisone che fa, wow il dolore se ne sta andando, ti ringrazio ancora, mi sa che ci fermiamo qua tra poco perché devo, sono felice di sentirlo, tra l'altro ti sei preso cura praticamente delle tue labbra, scusi, scusa, no no no, non capisco, cosa che non capisci, tu praticamente correvi per questa cosa del balsamo, per le labbra, come se le tue labbra dovessero cadere o che cosa? eh, esattamente, ok, adesso vedo il fraintendimento ora, non è per me, io stavo correndo insomma perché una ragazza me l'ha chiesto di prenderlo alla svelta, ok ho capito, tu stavi facendo praticamente un favore a una ragazza, immaginavo, scompirla che pur di fare il colpo su una ragazza oppure sulla sua ragazza, insomma, prendere la lettera alle richieste, sì, basilarmente corro in giro insomma, come, un attimo, esattamente, ok, io corro in giro insomma per commissioni per lei tutto il tempo, davvero, e tu, insomma, non ti fai un problema di essere il suo piccolo ragazzo che fa le commissioni, prendimi questo, prendimi quell'altro, no no, assolutamente, lei si fida veramente di me, per cui sono felice di, insomma, di fare queste cose per lei, le commissioni sono la mia opportunità per essere annotato da lei, ti ha annotato, sì, e ti sto sfruttando, sei frenzonato e sfruttato, e non posso togliermi la sensazione, insomma, che questa ragazza lo stia usando, e siccome sono così diligente in queste commissioni, mi ha perfino dato un nickname, quando ci siamo incontrati per la prima volta, mi ha solo chiamato con il mio cognome, insomma, sto facendo praticamente dei progressi, sì, eh, sì, come ti chiama ora, mi chiama Kun, Erran Kun, vabbè, praticamente, insomma, è la ragazza della commissione alla fine, questo non è nemmeno un nickname di cui essere felice, insomma, però la ragazza ha un buon senso dello humor, ascolta, quel nickname, hai realizzato che quella ragazza, insomma, ti ha trasformato nel suo personale servitore, cosa? È così che sembra, ma non so, ok, ma anche se questo fosse vero, ho comunque un'influenza, diciamo così, un'influenza sui delay, un... sì, ok, questo è tutto bene, eccetera, ma praticamente, insomma... ti sta facendo... ti sta scavando, correndo i tuoi piedi nel terreno, letteralmente, non lo so, praticamente ti sta dicendo che alla fine la medicina ti ha aiutato un po', ma dubito che praticamente ti potrai curare interamente, probabilmente hai ragione, provo a parlare con lei e vedere se mi darà permesso di fermarmi un po' con le commissioni, e non è nemmeno uno che, insomma, che ci si dà per vinto, devo riconoscere, ok, ma in qualche caso se lei vuole qualcosa, io devo essere quello che, insomma, va a prenderla per lei, è così che deve essere, bene, devo andare, ti ringrazio tanto, bravo schiavettino, ok, posso capire, insomma, che vuoi impressionare la ragazza dei tuoi sogni, ma non devi, questa cosa non deve diventare un incubo, ma a parte quello, comunque non ti niente a far così, va bene, niente, come dicevo, adesso devo assolutamente fermarmi qua, ci vediamo per il prossimo episodio, presto, ciao a tutti!